siamo online come un'altra volta per chi ci ha visto vorrei salutare tutto il popolo di napoli e tutta napoli all'omaggio di alfonso a pino daniele che tra una volta che ci siamo sentiti purtroppo è scomparso sono andato a dare la mano io si è andato a dare una grande morte che male c'è dalla terra non è che sei andato ma al funerario al funerario si è andato se lo messo in rete devo andare a dare la mano perché per rispetto si è andato a dare la mano è andato a ricevere voglio la mano io non ne voglio ma non mi toccare non mi toccare ma è fasteggiativo ma no no e ci dico un nome di queste cose al fa perché ci sono cose che vuoi essere umane ma io ho lasciato i capelli così perché alla fabbio caressa alla vittoria dello sgarbi vedi alla fabbio caressa di più se no se che si va andato ma va a fagù la fredisce questo non lo taglierei queste cose eh i capelli non dà sede no a me no non li tagliamo a maggio metà maggio fine maggio marzo allora come ti va la vita sai come è una vita è la solita come è la vita niente di che come disse De Crescenzo la vita è il maestro De Crescenzo non so se sai eh ma no questo è il tuo ma è un no lo so però nel senso non sono tanto d'accordo perché scusate ma un po' di d'accordo ma perché perché allora perché nasci scusa nasci perché non lo vuoi tu che nasci ma è una cosa che è naturale è un insieme di semi di sperma che si puoi decidere a un certo punto se vuoi rimanere là dentro dici no voglio rimanere qua dentro dentro la pancia della mamma dentro la pancia della mamma dici no voglio rimanere qua puoi decidere tu al fuoco vedi che sei un ci paga pure l'immu dentro ci paga le tasse sto qua ma se non lavori allora se tu sei giovane no quando nasci sei ancora più giovane proprio giovane quando sei nella fase embrionale che poi ti porta a svilupparti fisicamente molto giovane eh figurati non c'è il lavoro figurati che vuoi pagare l'immu eh non c'è il lavoro c'è il lavoro che pagare l'immu che pagare l'immu non pago niente io non caccio una lira ti metti a fare l'indestino della mamma no poi si sente male peccato e rischi anche tu la morte va bene oppure prima anche qua se tu non vuoi proprio uscire ti prendi l'indestino di tua madre però giri io al collo e quando ti tirano sei morto e quando ti tirano quando ti tirano sei morto giusto giudissimo queste cose non si dicono no vabbè no diciamo a tutti i bambini nelle pancie delle madri non fate questa cosa non fate questo non provate questo nelle pancie delle quindi quindi salutiamo per questo primo video salutiamo dopo questo argomento salutiamo e alla prossima ciao